Ben trovati al TG7 Basilicata. Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, ha emesso oggi un'ordinanza che proroga le misure di contenimento dell'epidemia fino al 15 gennaio 2021. L'atto è una conseguenza dell'ultimo DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 3 dicembre. In Basilicata restano pertanto vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione tranne che per motivi di lavoro e salute, per la didattica in presenza e per il rientro al domicilio, nell'abitazione o nel comune di residenza o i transiti per raggiungere altre regioni. Altri divieti interessano le attività sportive, ricreative o culturali già bloccate. Resta confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. Le aziende di trasporto devono rispettare un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 50%. Andiamo avanti con l'informazione i vigili del fuoco del comando provinciale di potenza col personale in servizio presso la sede di staccata di Melfi nella giornata di ieri alle ore 20 e 30 circa sono intervenuti a Datella per soccorrere una persona. Il personale sanitario è intervenuto per soccorrere un'anziana donna ed ha incontrato diverse difficoltà connesse alla logistica e alla non autonomia della pazienza. Pertanto hanno richiesto supporto al 115. I vigili del fuoco di Melfi giunti sul posto indossando i dispositivi di protezione individuale richiesti dal caso hanno collaborato col personale sanitario. Imbraccata la signora Sontero è stata trasportata dal secondo piano all'ambulanza in tutta sicurezza per poi affidarla alle prime cure del medico. Andiamo all'ultima notizia. Cinque persone sono state scoperte e denunciate dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli effettuati in provincia di Matera. In quanto percepivano il reddito di cittadinanza ma avevano omesso di dichiarare i vinciti online per oltre 1,7 milioni di euro. Erano due uomini e tre donne, titolari di conti di gioco sui quali erano state accreditate le vincite online. I cinque hanno percepito illecitamente nel complesso circa 50.000 euro di reddito di cittadinanza. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani.